Quando fa il concerto a Torino? No, no! Non ci fai anche ancora un'altra? Non ci fai anche un po' così No, non ci fai anche... Ciao, Denti! A Torino si, un giorno di venerlo a fare qua, eh, che sta a Torino Sì, ma quando? Quando? Quando sto concerto a Torino? Ah, breve! Ma c'è! Ma ora che se non arriva, vai, eh! Il primo lo dovevi fare a Torino. Come no? Perché nella città di Natale si fa quello più grande Ah, bravo! Ah, sì! Un concertino qui lo potete fare! Mi saluto alla stia, sono qua! Buon saluto! Ok, tra quattro! Allora! Io dopo! Sono in giro, ma...